Inquinamento atmosferico, occupazione dei suoli, utilizzo di pesticidi e cambiamento climatico. Sono solo alcuni dei potenti nemici che negli ultimi anni stanno mettendo a sempre maggior repentaglio la diffusione di api, farfalle e di tutti gli insetti impollinatori a cui dobbiamo la sopravvivenza di fiori e piante e la salvaguardia della biodiversità. Il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in collaborazione con l'Università di Padova e Bologna, ha avviato negli anni scorsi diversi studi per raccogliere informazioni sulla presenza e distribuzione di questi insetti e per valutarne lo stato di salute. Se ne è discusso giovedì sera al Museo Etnografico di Serravella, nel corso di un incontro scientifico organizzato in collaborazione con il Centro Europe Direct Montagna Veneta. L'Unione Europea ha infatti attivato da tempo alcune politiche volte alla salvaguardia di questi preziosissimi lavoratori dell'ambiente. Questa è un'attività propria e principale del Parco. Il Parco ha proprio questo compito nel territorio, andare a fare attività scientifica e tradurla poi in buone pratiche che i cittadini e gli enti possono portare avanti. Il tema degli impollinatori è un tema che ha l'attenzione a livello nazionale e qui si traduce nel dettaglio e con le iniziative concrete studiate da esperti universitari di quello che ognuno di noi può fare. Ma qual è lo stato dell'arte relativo alla presenza delle api nel nostro territorio? Nel corso delle ricerche condotte nell'area del Parco sono stati studiati oltre 1300 esemplari appartenenti a 67 specie, pari al 6,6% del totale delle specie censite in Italia. Quello che noi abbiamo visto è che queste praterie, perché è lì che vivono questi insetti, hanno una ricchezza botanica e quindi una fonte di alimento importante per questi insetti e quindi abbiamo trovato delle popolazioni sia come numeri che come differenza di specie molto molto interessanti. Il prossimo incontro di approfondimento sul tema è in programma venerdì 14 ottobre alle 18 a Feltre in Sala Ocri.